ciao a tutti bentornati sul canale dell'universale io sono sempre lorenzo borsoi e oggi partiamo con la mia serie ufficiale le prime tre volte abbiamo parlato un po della seconda guerra mondiale che inutile dirlo è il mio argomento storico preferito come so di tanti molti di voi e avevo preso tre storie abbastanza casuali una ambientata in africa una in india addirittura e una era più generale super largo eccetera e questa volta invece partiamo con una serie regolare un po di tempo fa ho letto questo libro di enrico cernuschi che mi ha dato uno sguardo un po diverso su tutti gli interventi militari che il nostro paese effettuato nei suoi circa 200 anni di storia poco meno quindi mi sono detto proviamo a fare una puntata o in alcuni casi saranno più puntate nel senso che è chiaro che se arriviamo alla prima guerra mondiale dovremo dividere la partecipazione italiana in più puntate ma comunque ci vorrà un po per arrivarci quindi poi lo vedrete e quindi tutta una serie di puntate che io vi porterò per farvi capire come è stato utilizzato il nostro esercito in 150 160 anni di storia da quando c'è l'italia unita ora il primo intervento militare dell'italia se vogliamo è interno quando è unita perché sono famoso insomma il brigantaggio la repressione del brigantaggio tuttavia parto con la terza guerra di indipendenza il brigantaggio lo teniamo per la prossima volta anche perché comunque copre un periodo abbastanza lungo dal 1860 al 70 quindi anche a livello temporale farò dei dei riferimenti in questa puntata ma a livello temporale comunque non ci perdiamo la serie spero avrà un insomma riscontro che hanno avuto anche le prime tre puntate e soprattutto parleremo anche di piccoli interventi che magari in genere non si trattano soprattutto a scuola ad esempio vi ricordate del contingente italiano della guerra dei boxer o se no arriveremo agli anni 90 del secolo scorso ho già in mente una puntata sull'operazione alba quando su mandato ono gli italiani sono intervenuti in albania per reprimere le rivolte per evitare che l'albania cadesse nel caos lo sapevate beh lo sapremo quindi partiamo dalla terza guerra di indipendenza voglio dilungarmi troppo perché se no ci perdiamo e cos'è la terza guerra di indipendenza la guerra che abbiamo perso però ci hanno regalato il veneto questo lo sentite in tutti i bar c'è anche l'intervento insomma famoso di barbero che ne ha parlato in maniera piuttosto approfondita però sulla cultura popolare in generale si ricorda di lissa di custof abbiamo perso entrambe però eravamo alleati dei tedeschi della prussia e quindi ci hanno regalato il vento non è andata proprio così o meglio sì in parte se vogliamo ridotta all'osso sono queste le due battaglie fondamentali però soprattutto c'è stato anche poi intervento di garibaldi ma andiamo con ordine in che periodo siamo siamo nel periodo appunto di quell'europa in pace dopo il congresso di vienna ma in pace relativa c'è comunque gli scontri tra le grandi potenze ci sono e l'ultimo grosso sarà tra quattro anni adesso siamo nell'ottanta 1866 per la terza guerra di indipendenza tra quattro anni ci sarà ovviamente la guerra franco prussiana che metterà fine a quel processo di unificazione definizione delle due potenze centrali d'europa quelle nuove ovvero la germania e l'italia se dopo vienna si era uscite da un contesto in cui l'europa vedeva sia l'area germanica spaccata in tanti staterelli eccetera e l'area italica essenzialmente soggette all'influenza di vienna quindi con in italia ad esempio quasi tutti gli stati italiani bene o male con monarchie imparentate con gli asburgo o comunque legati ad un profilo a livello militare e politico e l'area tedesca nominalmente sotto il controllo dell'imperatore d'austria di fatto indipendente sotto vari stati quindi tutte queste guerre vedono definirsi la germania l'italia e essenzialmente fanno perdere all'austria l'influenza che aveva su queste due regioni e peraltro cambiano il panorama europeo che era uguale da quasi mille anni se vogliamo praticamente da sempre cioè non c'era nessuno che si ricordava di germania italia come stati unitari se escludiamo piccole digressioni tipo l'italia le repubbliche sorelle sotto napoleone eccetera e questo cambia totalmente l'idea dell'europa cioè prima si sapeva che dalla danimarca alla calabria essenzialmente c'era tutta una serie di stati che faceva cuscinetto tra l'occidente quindi francia spagna portogallo grande tagna eccetera e poi a oriente i grandi imperi orientali impero ottomano austriaco quello russo per qualche secolo prima c'era ancora il commonwealth britannico polacco lituano eccetera e in qualche modo quelle due aree separavano nominalmente l'europa ora invece al termine di questo processo diventano due stati concreti due grandi potenze certo l'italia sicuramente un po meno però due potenze importanti e beh diciamolo non è per malizia ma insieme al giappone quelle tre potenze poi e cercheranno di sconvolgere un po di anni più tardi l'intero ordine internazionale quindi nuovi arrivati sono dimostrati un po diciamo recalcitranti forse ad adattarsi a quello che era l'ordine internazionale magari ne si rifletteremo più avanti quindi abbiamo un'italia che è diventata regno d'italia le mancano ovviamente alcuni pezzi c'è il latfe che ancora sotto il papa c'è il trentino ovviamente il veneto la venezia giulia che sono sotto l'austria e scoppia la guerra austro prussiana una guerra in fronte con grandi dimensioni più alleati da una parte dall'altra alcuni staterelli austriaci propendono da alcuni staterelli tedeschi propendono per la prussia alcuni sono ancora dalla parte nominalmente dell'austria e questo è un fronte enorme con veramente centinaia di migliaia di soldati che si spostano e ci sarà la famosa battaglia di sadowa che vedrà i poi i brussiani trionfare l'italia si allea con con l'austria e decide che è il momento di completare l'unificazione nazionale molte truppe sono a sud come ho detto stanno reprimendo il brigantaggio vengono mobilitate in gran fretta e si prepara una spedizione appunto per l'invasione del veneto e del trentino si dà a garibaldi che stavolta è ufficialmente un generale dell'esercito italiano quindi con un distaccamento di soldati insomma al suo fianco che lancerà l'assalto al trentino garibaldi abbastanza vecchio ma comunque se la cama ancora e se la caverà molto bene in questo conflitto per quanto riguarda l'invasione del veneto cioè la ciccia e il fronte più importante per l'italia ci sono due generali la marmora e cialdini che dovranno condurre insomma le operazioni questi due generali dividono in due le loro armate in realtà in una mossa abbastanza stupida nel senso che l'austria era più potente bene o male sia della prussia sia dell'italia però dovendo dividere le sue forze su due fronti poi si rivelerà in tutti e due i fronti essenzialmente più debole sia dell'una che dell'altra mentre è chiaro che forse la prussia ce l'avrebbe fatta l'italia da sola non avrebbe non sarebbe andata molto avanti questo è abbastanza chiaro comunque la marmora ex presidente del consiglio tra l'altro concorda con cialdini due operazioni cialdini passerà il po mentre intanto siamo in estate insomma sia prossimo giugno nella guerra è più o meno nei mesi di giugno luglio e poi finisce verso agosto mentre la marmora passerà il mincio e le due azioni conseguenziali porteranno poi all'invasione del veneto diciamo che si concorda in realtà che una delle due azioni sia quella principale e mentre l'altra più che altro dimostrativa solo che dell'incontro tra i due generali non abbiamo dei verbali degli scritti eccetera però è abbastanza chiaro che non uscì una una visione netta della cosa del piano nessuno dei due aveva effettivamente capito chi dei due avesse l'iniziativa generale quindi chi dei due dovesse portare avanti l'alto il primo a farsi avanti in realtà sarà la marmora la marmora che parte il 20 giugno con le sue operazioni passa al mincio come previsto e il 24 si ritrova davanti gli austriaci a custop a custop la battaglia è uno scontro abbastanza marginale a livello militare l'esercito italiano viene respinto in realtà la marmora ordina la ritirata prima che possano essere sopraggiunte tutte le unità a contatto con nemico quasi conscio di aver già perso la battaglia in realtà le perdite sono leggermente superiori da parte italiana un po inferiori da parte austriaca ma l'entità dell'armata italiana non viene minimamente compromessa come del resto quella austriaca per cui in realtà è uno scontro di scarso valore che mente semplicemente gli italiani sulla difensiva e li porta a ripiegare per un eccesso essenzialmente di prudenza e e non smuove la situazione per cui in realtà si può dire che sia stata più che altro una ci sia stata una scarsa coordinazione delle varie armi e soprattutto delle unità al comando della marmora e soprattutto il problema sia semplicemente negli altri comandi non certo nei soldati che comunque si batterono piuttosto bene e quindi si arriva all'avanzata di cialdini nel veneto e nella venezia giulia e allo stesso tempo c'è il nostro garibaldi che avanza e senza diciamo spazzando via ogni resistenza in trentino dove gli austriaci non hanno molte unità e cialdini riesce ad avanzare in tutto il veneto prende rovigo passa il tagliamento arriva fino alle porte di palmarova se la conoscete una famosissima città a ottagonale con ancora delle mura perfettamente conservate bellissima e arriva nei pressi diversa dove delle vanguardie italiane riescono a sconfiggere una debole resistenza austriaca e sarà qui diciamo la massima penetrazione italiana intanto si era saputo della grave sconfitta austriaca nel nord e si era diciamo già pronti ma si era già arrivati anche con proprio con la mentalità generale di del fatto che in qualche modo si sarebbe trattato e la guerra sarebbe presto terminata anche perché le finanze del regno d'italia non erano particolarmente rose è una situazione in cui si stava cercando di investire per formare le infrastrutture essenziali del paese e però la spesa militare prima contro il brigantaggio e adesso con la guerra contro l'austria stanno letteralmente dilapidando le casse pubbliche italiane per cui si cerca si voleva cercare di terminare prima il prima possibile il conflitto essenzialmente e intanto per mare non si era mosso quasi niente la migliaio tegetov che comandava la flotta austriaca che era distanza a pola sava benissimo che non poteva competere con la flotta italiana la flotta italiana che negli anni precedenti dopo aver unificato i vari comandi delle varie flotte quindi quella del sud con quella sabauda con le altre piccole flotte degli ex stati italiani era disunita a livello di comando ma era riuscito a mettere in linea alcune nuove navi che già rappresentano ipodromi di quelle che saranno poi le corraffate di fino ottocento inizio novecento hanno delle rivestimenti ovviamente in metallo nuovi tipi di cannoni sono molto precise e la stessa tecnologia non la può mettere in campo l'austria che ha comunque meno navi tanto che fin da subito il porto di venezia è bloccato la flotta austriaca non può far sbarcare soldati per cui in realtà la forza austriaca che è già divisa tra russia e italia è ulteriormente indebolita dal fatto che essenzialmente è la flotta italiana a dominare i mari per cui non c'è nessuna azione significativa e essenzialmente la flotta italiana da sola con la sua presenza riesce a diminuire di molto il potenziale austriaco sarà il 20 luglio in cui le due flotte si scontreranno vicino all'isolotto di lissa è una battaglia in cui essenzialmente l'italia perde perché perde una corraffata riuscirà a diciamo elargire comunque dei colpi alle navi avversarie che usciranno in alcune lievemente danneggiate dallo scontro però essenzialmente nonostante la perdita di una nave l'italia non è che subì questa sconfitta totale come si vuole far credere l'intera marina fondata ce ne ho sentito di ogni tipo negli anni e quindi in realtà è uno scontro che vede gli italiani in leggera difficoltà soprattutto per proprio il sistema c'è una marina che doveva ancora nascere che era ancora divisa tra vari comandi che non sapevano coordinarsi una marina austriaca che si esce vincitrice ma sa che non potrà avventurarsi oltre perché se uscisse interamente con tutte le sue forze per sbloccare venezia probabilmente in uno scontro generale con la marina italiana ne uscirebbe con le ossa a pezzi per cui in realtà sia le conquiste territoriali dell'italia in trentino e in veneto non smuovono troppo la situazione perché non si arriva mai allo scontro definitivo con l'esercito austriaco né in mare si arriva a un confronto totale tra le due flotte per cui in realtà in italia guadagna terreno ha delle vittorie tattiche l'austria non subisce nessuna vittoria sconfitta strategica particolare ha delle vittorie tattiche anche lei che la portano o meglio le vittorie austriaco sono più strategiche nel senso che fermano due azioni importanti di terra e di mare degli italiani però poi l'austria non ha le forze e le capacità di diciamo investire sul suo successo e quindi alla fine la guerra terminerà garibaldi che era quasi a trento riceverà l'ordine di ripiegare sappiamo il famosissimo ubidisco quindi garibaldi non si sottrasse diciamo ai suoi compiti di comandante e accettò le decisioni del comando italiano e i primi di agosto si siglò la pace che stabilì il passaggio del veneto al regno d'italia creando quel sistema di pesi e contropesi che rendeva il confine settentrionale diciamo sfavorevole per entrambi nel al tentativo di iniziare una guerra nel senso che l'austria manteneva questo saliente quest'area avanzata nel trentino però allo stesso tempo l'italia si impuneava sulle posizioni austriache tenendo il veneto creando una sorta di equilibrio del caso scoppiasse una nuova guerra e sappiamo bene che poi saranno i fronti dove si combatterà insomma la prima guerra mondiale per cui la prima prova dell'esercito italiano in campo aperto non è certo brillante ancora molto da riorganizzarsi ancora degli alti comandi che devono coordinarsi ha delle forze armate che devono essere che non sono state sfruttate al meglio con degli ottimi comandanti come abbiamo visto in trentino riesce essenzialmente a vincere tutte le battaglie ad avanzare piuttosto in profondità e comunque diciamo che la figura generale non è pessima nel senso che l'impossibilità austriaca di incuneare tutto il suo potenziale in italia e il blocco del mare impediscono che cioè favoriscono le piccole vittorie tattiche gli avanzamenti comunque di un esercito italiano che fermo non sta per cui la terza guerra di indipendenza è la guerra in cui ci hanno regalato il vento sì però comunque non è questo disastro almeno secondo come ho ricostruito io che molti insomma raccontano in giro è comunque una prima prova che da mostra tutte le carenze che ancora il sistema militare italiano unitari e direi che questo è quanto mi scuso per la voce un po bassa però faccio il gesto anche con i bambini alla mattina e tutto il pomeriggio e a dire di qua e di là poi mi si abbassa la voce quindi magari le prossime volte noterete col tono di voce un po provato da dalla giornata di lavoro e per il resto io vi saluto è stato un piacere questa era la prima guerra italiana e la prossima volta vedremo una guerra interna appunto al brigantaggio per poi spassare ovviamente all'intervento militare contro la il papato e quindi al poi a roma capitale d'italia e questo è tutto spero di avervi intrattenuto come si deve e fatemi sapere cosa ne pensate di questa guerra se volete aggiungere informazioni chiedermi di qualche battaglia che poi magari in passi in futuro si può approfondire più nel dettaglio io sono Lorenzo Borsoi questo è l'universale e noi ci vediamo alla prossima ciao